Go, go, pro skier, fit check sulle piste. Chiara oggi è poco riconoscibile, se vedete qualcuno con un altro po' di legge. Guardate che stile, lo stile non va a pile. Guardate che stile, lo stile. Guardate che stile, lo stile. Guardate che stile, lo stile. Guardate che stile, lo stile.